Juve ammazza grandi, compatta dall'inizio alla fine, feroce in difesa ed ispirata in attacco, la migliore di questa stagione, anche più forte di quella vista in terra senese. La vittoria contro l'Emporio Armani rivitalizza il campionato bianconero, nonostante qualche voce non proprio rassicurante dal consorzio societario. Con un Andre Smith quasi perfetto, condottiero dei suoi con una pesante doppia-doppia da 32 punti e 13 rimbalzi, Sacripanti batte Scariolo 91-80. In avvio botte risposta dei due play, con Collins che replica alla bomba di Omar Cook. Mancinelli guida gli attacchi ospite, ma il contropiede casertano colpisce la difesa superficiale dell'Armani. Con i punti di Nicolas, Milano arriva al 7.13 al settimo minuto, ma la Juve è in partita e con la spinta dei propri supporters, mai così caldi quest'anno, pareggia e va in vantaggio con i punti di Rose e Smith. Gallinari sbaglia ed il Palamagio non perdona niente alla stella NBA, ormai con le valigie pronte per volare oltre ceno. Alla prima sirena i bianconi ritornano sotto di un punto con il canestro da fuori di Righetti e nel secondo quarto, con la tripla di Dornecamp, si arriva anche al più 5. Sul 33.28. Gallinari e Nicolas riportano sopra Milano, Sacripanti spinge i suoi dalla panchina, ma al ventesimo, nonostante la tripla di un vivace Alex Righetti, Milano è avanti sul 40.44. Sempre Righetti inaugura il secondo tempo alla sua maniera, Rose lo imita ed è nuova parità a quota 46. Smith colpisce da fuori l'arco e dentro l'area, Mancinelli reagisce, ma l'ala casertana è super e con quattro canestri in fila regala il sorpasso sul 55.53. Poi l'episodio che spacca la gara. In grado di programmare perfettamente la partita ed in piccola parte anche a Gallinari e compagni che forse la prossima volta peccheranno meno di presunzione.